Siamo in compagnia di due compagni di Ruvikonos, un gruppo anti-autoritario e anarchico di Atene. Loro sono qui in Italia in occasione di un tour di presentazione del documentario L'amore e la rivoluzione, di cui sono in parte i protagonisti e quindi ne approfittiamo per fargli qualche domanda. Come prima cosa volevamo chiedervi cosa significa Ruvikonas, perché avete scelto questo nome e come vi organizzate. Le tue erotiche sono la mia parossia di Romagna, e quindi cosa significa Ruvikonas, può dialogare questo nome e può organizzare il nome. Inoltre vorrei ringrazio per le piccole la rivoluzione dei fighi e di Rupi, come sulle nelle altre城キe, la Bologna, Ecco, per prima di tutto vogliamo ringrazioare per il vinto elle compagno di Roma, che sia un invito per le compagni dell'altra città, che sia un montante il Dremmo di seguito. In Grecia vive una espressione e liuzano lo molto in Grecia vive una strada senza retorno Quando la squadra si chiama-si chiama in Italia, molti media avevano analizzato perché chiamavano questo nome. Il nostro gruppo è stato diventato in Norte in Grecia, mentre si è stato diventato alla media, il nostro gruppo è stato diventato per chi ha avviato questo nome. Inoltre, il nostro gruppo è stato diventato in Norte in Grecia, è come una organizazione di una organizazione che si chiama il nostro gruppo di Quesara. Voglio che creano problemi, se si chiama un'organizzazione anarchica a usare questo nome, come Cesare ha avviato questo nome. E' stato detto, alcuni luografici, sui sociali dalle, che vogliono fare, come il Quesara, vogliono fare una dictazione. In questa epoca erano come Cesare, in quella epoca erano voglia di fare qualcosa come di tattura, creare una di tattura in Grecia. Fisica, il nome e il nome che ho parlato in cui ho parlato all'inizio, è che saremmo in un certo senso, in un certo senso, in un certo senso. Il motivo che ho parlato, è che ho parlato per questo gruppo, quindi dovrebbero essere una scville per ogni volta, una circolazione, un certo senso, in 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 un certo senso. in modo da organizzazione, da organizzazione, da organizzazione, da organizzazione e da politica della squadra. Alli conosciamo in Italia che questa frase si usate per il percorso, ma proviamo in questo modo, in questo modo, in questo modo, che non mi insegno sono in questo modo, che abbiamo iniziato a creare delle problemi, ma in questo modo, non ho parlato come c'è, ma in questo modo, ci siamo iniziati e ci sono iniziati, non ho capito, ma in questo modo, in questo modo, ci sono state e abbiamo vissuto prima. Abbiamo riuscito di prendere il significativo di questo nome e il modo che reagiamo, abbiamo riuscito di entrare nella realtà della società, nella realtà politica. E' possibile di tornare in dietro, come significa il nome, perché si è lo facciamo questo, se diminuiamo le nostre accioni, significa che sarà una perduta, pure nel senso personale, pure nel senso politico. Abbiamo riuscito di entrare nel senso politico che ha il centro sociale, dove siamo riusciti nella nostra organizazione e viene per il centro della YouTube, per i vari problemi. E se mettevamo di fare le nostre accioni, potetevamo pure a queste persone, non dare, diciamo, la speranza di quello che, chiano, la speranza che possiamo dire che sia creata. E così, ovviamente, non ci ritorniamo. E' la fine, non ci ritorniamo. E' la fine. E' la seconda? E' la fine. 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 e la struttura 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 e la struttura